Marchisai, Peter. Alla fine ha vinto quello che sembrava l'outsider, sarà Peter Marchisai, il primo cittadino di una piccola città al sud dell'Ungheria, a sfidare il premier Viktor Orban alle elezioni in primavera. Marchisai ha vinto le primarie dell'opposizione anche grazie al ritiro del sindaco di Budapest, il liberale verde Gergeli Karaksoni, che l'ha appoggiato nel rush finale. 49enne, cattolico, padre di ben sette figli, il candidato dell'opposizione, eurodeputato cristiano conservatore, è convinto di poter scardinare il sistema di potere messo in piedi da Orban grazie alla squadra comune. Lotta alla corruzione e una nuova Costituzione sono le sue priorità. La grande sconfitta delle primarie è la vicepresidente del Parlamento europeo dal luglio 2019, Clara Dobrev. La socialdemocratica aveva vinto il primo round al voto, ma ha ceduto il passo all'alleanza tra sindaci. La sua campagna elettorale era incentrata sulla necessità di una politica maggiormente indirizzata a sinistra, dopo 12 anni di governo Fidesz. La compagine di destra, che secondo Dobrev, ha aumentato in maniera esponenziale le ingiustizie nel paese. D'ora in poi abbiamo solo una cosa di cui occuparci, come l'opposizione a sei partiti possa sconfiggere il governo di Viktor Orban e in che modo si possa demolire la rete di potere tessuta negli anni dal Premier. È la prima volta che un leader dell'opposizione è stato eletto alle primarie in Ungheria. Ai votanti è stato anche chiesto quale candidato dovrà correre alle elezioni nazionali del prossimo anno.